La spugna Mi scusi Miss Proudfoot Sì Scusami, me l'ha dato uno a Queen Island per il sole, non volevo farti parola Mi spiace Non importa Sai, io avrei voluto parlare con sua madre Beh, è un po' tardi ormai La conosceva? No, non l'ho mai conosciuta, ma speravo che potesse rispondermi a qualche domanda Cos'è lei, una specie di sbirro? No, mi chiamo Harry Angel Sono un investigatore privato Lei come... Epifany Epifany? Sì Sua mamma le ha lasciato un bellissimo nome, Epifany E non molto altro Veramente, per essere franco, sto cercando un amico della mamma Un certo Johnny Favorite Ah sì? Conoscevo tutti gli amici della mamma, ma non questo Johnny Favorite Ehi, ma che cazzo fai? Scusi, sai, io non sopporto, non sopporto le galline Sì Eh, sì Questo Johnny Favorite era un amico della sua mamma Stava a New York City prima della guerra Lei non me l'ha mai detto Mia madre ha avuto un sacco di amici, gli uomini le piacevano Conosce uno che si chiama Toots Sweet Era un amico di Favorite Ne ha sentito parlare? No Credo che sia un chitarrista piuttosto in gamba Mi piacerebbe tanto andare a sentirlo suonare stasera Senta, io ho deciso di restare qui in città Sono in un albergo E se per caso lei si ricordasse qualcosa che possa essermi di aiuto Beh, può farmi una telefonata Ecco Lei è davvero molto carina, Epifani E questo nome ne si addice Odio le galline Ehi, perché lo sta cercando Johnny Favorite? Non ho nulla contro di lui Sono semplicemente pagato per scoprire dov'è Magari a due metri sottoterra Allora comprerò un badile Magari a due metri sottoterra 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 Magari a due metri sottoterra